Salve e benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Siamo all'interno di una serie, questo è il quarto video, in cui si stanno vedendo le caratteristiche principali di una nuova suite definita Microsoft Power BI Business Intelligence, costituita da Power Query, Power Pivot e Power Map con la quale si sta costruendo durante questa serie un nuovo data model per il nostro business partendo da dei sorgenti testuali separati da virgole. Avevamo creato questa entità tabulare che è stata correttamente definita Merge One perché deriva dal merging di due sorgenti dati esterni, una lista dei negozi della nostra azienda e una lista comuni da cui è stato preso il riferimento della regione. Ci siamo portati un po' avanti iniziando ad abbossare la progettazione della tabella, quella che abbiamo chiamato come se fosse in access la tabella join perché avremo una tabella da dove verranno i prodotti, una tabella da dove vengono i nostri negozi e tutti questi dati entreranno relazionalmente all'interno della tabella transazioni. Ma vedete qual è la differenza? Mentre questo è un oggetto che deriva dalla produzione di Power Query e si capisce da queste linee colorate che non rappresentano semplicemente un formato, la tabella transazioni è ancora semplicemente abbozzata, cioè non costituisce un'entità informatica. Per confermare ancora che è significativamente informaticamente diversa tabella comuni, possiamo andare nel tab ad esempio formule e all'interno del pannellino gestione nomi possiamo vedere che è stata depositata come un oggetto di classe nome definito MergeOne. Vedete questa è la lista di oggetti di classe nome e la nostra entità tabulare è un oggetto informatico di classe nome definito MergeOne. Mentre se noi andiamo a vedere all'interno di transazioni vedete che la nostra tabella transazioni è una tabella ancora artificiale, una serie di celle che non è stata creata con il Power Query. Qual è la differenza? Guardate la differenza è molto interessante. Vedete qua noi abbiamo otto negozi in otto comuni collocati in diverse regioni. se noi andiamo ad esempio nei nostri sorgenti esterni, è molto interessante questa procedura, e per qualche motivo apriamo a mano, editiamo a mano ed inseriamo un nuovo negozio, per esempio Ferrara. Vedete che nel nostro sorgente esterno non c'è la regione, c'è soltanto l'introduzione manuale di un nuovo negozio. Chiudiamo e salviamo. Guardate che questa entità tabulare che deriva da un'architettura relazionale logica con i suoi sorgenti esterni può essere aggiornata cliccando su questo pulsante aggiorna e vedete che in maniera molto interessante i nostri negozi passano ad essere 9 con Ferrara che non soltanto viene aggiunto ma viene collegato logicamente alle mirare romani. Ovviamente questo tipo di operazioni non sarebbe possibile in questa tabella transazione che ancora dobbiamo finire di progettare. Quindi abbiamo questa struttura che stiamo simulando come se fosse una normalizzazione di un database in access. Abbiamo due tabelle periferiche, tabelle comuni e tabelle prodotti che adesso inseriremo con delle chiavi primarie che inseriranno dei dati all'interno della tabella centrale transazioni che sarà la nostra tabella join. Per inserire la tabella prodotti dal solito sorgente esterno come sempre tab query sezione recupera dati esterni da file di testo perché i nostri sorgenti esterni sono tutti file di testo. Andiamo nella realtà attiva cartella perché Power Query si ostina a non ricordarsi la cartella e andiamo a selezionare prodotti. Sappiamo che quando con Power Query facciamo questa operazione viene aperta una finestra diversa quindi le finestre dei nostri applicativi sono a questo punto due Excel e Power Query. Ci troviamo in Power Query come sempre le prime due operazioni automatiche. La prima riga viene interpretata come etichette dei nostri field, delle nostre colonne e poi viene inserito un tipo, viene assegnato un tipo ad ogni colonna. Andiamo sempre a confrontarlo, di prodotto viene etichettato come numero intero, il nome del prodotto viene etichettato come testo e il prezzo del prodotto dato che all'interno di un testo separato da virgole non c'è la possibilità di inserire il tipo viene etichettato come numero intero perché non sa che il prezzo è in euro o in dollari. La variazione di questo tipo di dato verrà fatta dentro Excel. In questo tipo di esorgente esterno non dobbiamo produrre nessuna manipolazione, non come prima che abbiamo dovuto logicamente inserire le regioni. Quindi a questo punto possiamo fare subito chiudi e carica e chiudi e carica, cioè inseriscimila all'interno del mio data model. Vedete, è questa. Io la rinomino tbl prodotti per seguire la logica e la convenzione e l'affianco trascinando il TAP, tasto sinistro, in questa mia struttura. Come sempre anche questa struttura tabulare vediamo viene rappresentata all'interno della gestione nome come un'entità, viene chiamata SD e prodotti. Questo perché SD e prodotti non merge one? Perché non c'è stata nessuna procedura di merging, quindi è il nostro sorgente dati esterni che viene immediatamente importato all'interno del nostro data model. Ecco che si sta piano piano materializzando la nostra struttura normalizzata. A sinistra la tabella comuni e la destra tabella prodotti e all'interno è una tabella transazioni all'interno della quale noi dovremmo fare delle lavorazioni. Possiamo fare, ad esempio, possiamo introdurre il nome dei prodotti come se fosse una convalida di una informazione che proviene proprio dalla tabella prodotti. Quindi in maniera molto semplice selezioniamo la cella, andiamo nel tab dati, andiamo convalida dati, convalida dati, gli diciamo elenco, clicchiamo il tasto per selezionare l'elenco, andiamo in prodotti, gli diciamo il nostro elenco dei prodotti. Stiamo facendo soltanto un esempio, clicchiamo ancora questo tasto per rientrare nella finestra di dialogo con valida dati e clicchiamo ok. Questo ci consente per esempio di popolare, vedete, di popolare la nostra tabella transazioni senza dovere scrivere a mano il nome del prodotto. Con la stessa procedura possiamo ad esempio descrivere il comune. Andiamo in comune, convalida dati all'interno del tab dati, convalida dati, elenco, clicchiamo il tasto per selezionare all'interno della tabella comuni i nostri comuni, li selezionando con il tasto sinistro mantenendolo premuto, il sorgente dati di quella cella sarà tabella comuni da B2 a B10. Clicchiamo ancora questo testo, ok, e abbiamo selezionato un sorgente dati per queste due celle di modo che il compilatore di questi dati, la persona che fa data entry, possa essere adiuvato da questa struttura, dalla convalida dati con la casella discesa. Possiamo anche, forse esagerare, introducendo una maniera automatica per mettere la data, possiamo andare nella tabella, nel tab sviluppo, chiedo scusa, inserisci controlli ActiveX, un controllo aggiuntivo che si chiama Microsoft Montview, se non ce l'avete può essere installato da internet, basta cercare in internet, c'è un'ampia letteratura come installare Microsoft Montview e un controllo OCX che va installato e poi registrato, si fa ok e si inserisce ad esempio qui. Ovviamente noi dobbiamo adesso inserire un piccolo script in VBA veramente microscopico che ci consente di inserire questa data nella cella desiderata. Doppio clicchiamo per entrare nell'ambiente di sviluppo, vedete molto simile la visual studio e doppio cliccando ci viene subito presentato l'evento principale di questo oggetto che si chiama Montview che è DateClick e noi scriviamo che ActiveCell.value sarà uguale a mi, cioè a questo oggetto che all'interno del nostro foglio che viene definito Montview21.value. Con questo semplicissimo script diciamo ad Excel che ogni volta che io clicco in una cella e poi clicco lo strumento ActiveX Montview, ecco deve essere salvata la data. Noi sappiamo che quando si inseriscono questi automatismi Excel vuole salvare il foglio in un formato differente, non XLSX ma XLSM. Lo facciamo, lo faremo poi alla fine e vediamo che uscendo dalla modalità progettazione, questo è un errore di visualizzazione che talora capita ma vedete che entrando e uscendo dalla visualizzazione non viene più duplicato, se io mi trovo in questa cella di data transazione clicco, vedete viene inserita automaticamente la data. Posso anche cambiarla, questa è una maniera simpatica per inserire, vedete automaticamente, delle date all'interno delle celle. Per il momento questo quarto video finisce qua e poi nei prossimi video completeremo la struttura del nostro data model. Grazie per avermi seguito e al prossimo video.